Eder, Mech, Pallister. Ad oggi, è stata confermata solo una persona deceduta. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Varese, insieme al pubblico ministero, per coordinare le indagini e ricostruire l'accaduto. Al momento non sembrano esserci responsabilità di terzi. Il sindaco Loredana Bonora non si trovava in paese al momento dei fatti e, appena informata dell'accaduto, è ancora sotto shock. Ha dichiarato di essere in viaggio verso Quasso per seguire da vicino la vicenda. Anche se non conosceva personalmente la coppia, è profondamente toccata da questo dramma che ha colpito la piccola comunità. Eder, Mech, Pallister.